Il momento è difficile per tutti e le famiglie prive di reddito mostrano segnali di difficoltà. A Francavilla Fontana sta facendo discutere la proposta formulata dalla consigliera comunale di opposizione Anna Ferreri, lanciata al sindaco assessori consiglieri comunali e persino al portavoce del sindaco, cioè quella di devolvere le indennità di funzione dei mesi di marzo e di aprile ad una struttura o ente da individuare, impegnate a fronteggiare l'emergenza ai virus. Nell'assoluta libertà ognuno potrà, dice Ferreri, dare un contributo attraverso un apposito conto corrente. Per la Ferreri si tratterebbe di un segnale da parte delle istituzioni. Una proposta questa che ha colto di sorpresa il presidente del consiglio comunale Domenico Atanasi. Citando Seneca, vale a dire che la beneficenza la si fa in silenzio e non in maniera ostentata, la proposta lanciata dalla Ferreri in pompa magna è buona solo per guadagnare qualche like. Dall'altra parte fa sapere sempre Atanasi quale apporto potrebbero dare i consiglieri comunali, visto che l'indennità per i mesi di marzo è pari a zero non essendosi svolti né consigli comunali né commissioni consigliari. Quanto al portavoce Atanasi precisa che a tutti gli effetti si tratta di un lavoratore dipendente. Ognuno insomma potrà ritenersi libero di contribuire nella misura che li terrà opportuno, visto che sono state avviate le procedure per una raccolta fondi, il tutto da parte del comune senza alcun protagonismo.